Oggi la ripalla da destra a sinistra a Napoli, insigne, buono il suggerimento interno per Mario Ruiz con un po' di spazio, provo a scotellarla, dalla parte opposta, Caglie Foncio, un fumaggio nel campo, Mario Ruiz che allarga ancora per Zieninski, trova a venire il conto, Mili! GOOOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! Ma chi è la signa? Mili! Milic! Milic! SIGNO! Guarda, guarda le mani! Palla prolungata! 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 Palla prolungata!